Ben trovati dalla redazione di News24.city Gran Bretagna a Cannes conquista Londra, il primo sindaco musulmano. La prima dichiarazione del neosindaco sembrava impossibile. Giappone è morto a Rada, era l'ultimo sopravvissuto all'attacco a Pearl Harbor. Turchia, giorno nero per la libertà di stampa. Condannati a 5 anni di carcere due giornalisti di Cumhuriyet per scoop sulle armi in Siria. Vaticano, Papa Francesco incontra i vertici dell'Unione Europea. Sogno, un'Europa in cui migrare non sia un delitto. Obama contro Trump. La Casa Bianca non è un reality show. Il presidente USA bisogna prendere molto sul serio le sue dichiarazioni. Caso Lodi, il sindaco Ugetti resta in carcere. La motivazione del GIP potrebbe inquinare le prove. La Casa Bianca non è un'amma d'귀iazza. Sì, ma un'amma d'abastanza.